La scomparsa di uno dei protagonisti della fiction Braccialetti Rossi ha causato la forte commozione di tutti gli appassionati di questa serie che sta spopolando soprattutto fra i più giovani. Il giovane Davide, interpretato da Mirko Trovato, è morto a causa di un intervento chirurgico, mentre i compagni festeggiavano tutti insieme il compleanno di Leo Carmine Buschini. La tragica svolta non è stata una scelta degli sceneggiatori italiani, ma il fedele adattamento alla trama dell'originale spagnolo, una scelta coraggiosa considerando che di solito le fiction italiane tendono a prediligere il lieto fine. E seguendo la trama dello spagnolo Pulseres Vermiglies veniamo anche a conoscere uno spoiler. Se qualcuno non vuole rovinarsi la sorpresa, beh, si fermi qui. Se siete invece curiosi, andate avanti. Se siete stati curiosi, sappiate che Davide non è uscito di scena per sempre. Tornerà a trovare i suoi compagni in forma di fantasma e verrà visto probabilmente da Vale. I fan potranno così avere l'opportunità di rivedere ancora una volta tutti insieme i braccialetti rossi. Grazie.